Anche la Lega Sicola sembra essere scesa in campo, forse l'ultimo estremo tentativo per evitare che da Grigento tramonti definitivamente il progetto Olimpica Acragas, il cui concepimento non è stato certamente semplice, tant'è che sembra destinato ad abortire. I vertici dell'organismo, con in testa il presidente Santino Lopresti, starebbe valutando l'ipotesi di concedere il tempo necessario al club, che ancora però non ha una guida in termini di assetto societario, per tesserare giocatori chiamati a comporre l'organico da utilizzare nel campionato di promozione. Lo scenario insomma è poco rassicurante per il popolo biancazzurro, stanno per scorrere i titoli di coda di un film, il cui esito non era certamente scontato, ma quantomeno ipotizzabile dopo la fresca scomparsa dell'Acragas dal calcio professionistico. Gli ostacoli oggettivamente sono tanti e in tempi così stretti forse insormontabili per poter intravedere un barlume di luce in fondo al tunnel, anche perché c'è l'avversario di turno in campionato, il Castel Termini, che avrebbe già manifestato la volontà di opporsa all'eventuale rinvio della prima giornata. E intanto gli strascichi della passata gestione si ripercuotono sui giocatori che sono scesi in campo con la maglia del gigante in Serie C. Gli atleti non avranno un solo euro di arretrato di quel che resta come disponibilità della vecchia società ormai sostanzialmente svuotata. La fideiussione, quella di 350 mila euro firmata a garanzia da Silvio Alessi, non potrà infatti essere utilizzata per un non meglio specificato cavillo che la società che l'ha emessa avrebbe posto di fronte alla richiesta di una decina di ex calciatori. Insomma, un disastro e un dramma sportivo per tutti. Grazie a tutti.